Dopo la lunga notte dei furti, con ben quattro colpi andati a segno, l'emergenza criminalità non si arresta. Nelle ultime ore altri tre colpi, due sventati e l'altro andato a segno. In Viale Piacenza è finito in manette un nigeriano di 27 anni che ha cercato di rapinare il bar White Lady. L'uomo pretendeva soldi dal titolare di origini cinesi a risarcimento di presunte lesioni subite nel corso di una lite. Ha afferrato il rivale al collo, poi ha afferrato il registratore di cassa che ha continuato a scaramentare a terra nel tentativo di aprirlo anche dopo l'arrivo dei carabinieri, allertati da alcuni testimoni. Il nigeriano, pregiudicato e senza fissa dimora, ora si trova in carcere. Lunedì sarà processato per direttissima. Colpo sventato anche in via Firenze. Ad entrare in azione sono stati due ladri, un parmigiano di 32 anni e un rumeno di 28. Il loro obiettivo era quello di mettere a segno furti in appartamenti e scantinati del caseggiato. Il fatto è che la scena non è sfuggita a un residente che, quando ha visto uno dei due, in particolare il rumeno, scavalcare la recinzione del condominio, ha subito capito cosa stava accadendo e ha telefonato al 113. Quando in via Firenze è arrivata la polizia, i due hanno cercato di fuggire, ma sono stati bloccati. Erano arrivati in zona a bordo di un'auto, sulla quale avevano già caricato un paio di scale in alluminio, trafugate dal balcone di un'abitazione al piano terra. Per i due uomini è scatata la denuncia per furto aggravato e continuato in concorso. Razzia ha segno invece al negozio di pelletteria coccinelle di Sala Baganza. Nella notte una banda di ladri ha trafugato vari accessori. Sul furto indagano i carabinieri.